Questa è la squadra che avrebbe, tra virgolette, vinto il diciannovesimo scudetto. Ecco, perché noi abbiamo vinto il diciannovesimo scudetto? Perché la Coppa Federale del 15-16 è a tutti gli effetti uno scudetto. Ci vuoi spiegare perché, Luigi? Allora, praticamente questo, dopo lo scoppio della prima mondiale, il campionato venne sospeso. E, come ben saprete, poi assegnato al termine del conflitto al Genoa, nonostante mancassero ancora due giornate alla conclusione del torneo. In luogo del campionato, la stagione 15-16, la federazione, forse un po' timorosa, visto l'esito e l'interventismo da parte della popolazione italiana, non si sentì di organizzare un campionato nazionale. Nel senso che temeva che alcune zone dell'Italia potessero essere, diciamo, Oggetto di conflitto, insomma, terreno di campo di battaglia. Esatto, di campo di battaglia. E quindi, in luogo del campionato, organizzò questa Coppa Federale. Diciamo che, anche lì, come già i campionati precedenti, si svolgeva a livello regionale. Cioè, c'erano delle qualificazioni che venivano disputate a livello regionale, e poi si sarebbero disputate le finali nazionali. Finali nazionali a cui il Milan arriva contro il Genoa, sempre di avversario Dantan, e il Milan si aggiudica a questa Coppa Federale, che a tutti gli effetti è la vittoria di un campionato. Per, diciamo, per similitudine ai Vigili del Fuoco della Spezia, che vissero un analogo campionato nel 44, la Federazione ha dato un riconoscimento, diciamo, per questa vittoria, come se fosse un titolo. Un riconoscimento postumo? Esatto. Ma è uno scudetto? Eh, praticamente, gli hanno riconosciuto come se avessero vinto lo scudetto del 44. Campionato di guerra. È il campionato di guerra. E quindi, diciamo, per similitudine, adesso è chiaro che stiamo parlando ormai di una cosa di 90 anni fa, però è, a tutti gli effetti, un campionato vinto, e quindi la Federazione potrebbe anche rivalutarlo e assegnare effettivamente il titolo. Milan vinse dopo tante partite da Coppa Federale, Luigi. Era un campionato... Un campionato a tutti gli effetti, certo. Tutti gli effetti, quindi ci fu, se non sbaglio, il ritiro del Casale, che probabilmente era una realtà di provincia, che probabilmente aveva difficoltà nei collegamenti per fare le trasferte e via dicendo, però giocò la Juventus, giocò l'Inter, giocarono tutte le squadre principali dell'epoca. Voltiamo pagina, c'è il Milan 1919-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, si parte dal Milan 19-20, 1919-1920, in alto a sinistra, si arriva in basso a destra al Milan 1924-1925. Il Milan magari che vinceva poco, qui vedo Trofeo Lombardi e Macchi, la Scarpa Radice, la Coppa Giuriati, la Coppa della Vita, la Coppa Cittadinizza, però un Milan che c'è sempre caro, vedo anche qui tante belle foto della nostra squadra che non avevo mai visto, Luigi. Sì, diciamo che gli anni 20 sono gli anni dopo il primo conflitto mondiale, sono gli anni probabilmente più bui e più tristi della società. Ecco, dimmi qualcosa del campionato 21-22, in cui arriva all'ultimo posto l'altra squadra di Milano. Come mai arriva all'ultimo posto e non va in Serie B? Ebbè, diciamo che... Qui tra Compromesso Colombo e Compromesso Guido Rossi la fanno sempre franca. Sì, sì, assolutamente sì. Diciamo che lì, tra l'Odo Colombo, poi intervenne anche l'Avvocato Mauro. Sull'Avvocato Mauro, che era uno dei secessionisti rossoneri che passarono da una sponda del Naviglio all'altro, fecero in modo che al termine di quel campionato in cui l'Inter era arrivata ultima, strada facendo, cammin facendo, inventarono una sorta di spareggio di qualificazione per la stagione successiva, in cui misero di fronte l'Inter contro il Libertas di Firenze che avrebbe maturato la qualificazione per andare in Serie A. Quindi inventarono questo spareggio sui generis, approfittando del fatto che c'era la ristrutturazione dei campionati grazie all'Odo Colombo, anche su Colombo bisogna fare un inciso curioso, e fecero questo spareggio in cui l'Inter naturalmente ebbe la meglio. Spareggio accomodante. Esatto, e praticamente salvò il posto in Serie A. E compromesso Colombo? Il Colombo è il famoso giornalista che poi divenne direttore della Gazzetta dello Sport, Emilio Colombo, che era stato innanzitutto giocatore dell'Unione Sportiva Milanese, però aveva delle simpatie nerazzurre. Questo Emilio Colombo, oltre a salvare... Ma questi qui appena nati erano già così ramificati, Luigi? Eh, diciamo che spaziavano un po', tra cui il ratto del 12 nei confronti del Milan, dei migliori giocatori. Questa è una cosa ancora che pochi sanno. Cioè? Perché non c'è solo l'ascissione del... Cosa hanno fatto questi qui? C'erano molti giocatori? Allora, l'ascissione del 1908, da origine dal Milan escono 43 soci e danno origine all'Inter, d'accordo? Però la cosa più dolorosa per il Milan avviene nel 1912-13, quando i più forti calciatori vengono praticamente quasi totalmente presi dall'Inter. E come mai? E lì, probabilmente ci fu una questione economica. Nasceva i primi tentativi di professionismo. E infatti dal Milan vanno via De Vecchi, che passa al Genoa. Dopo che Giannino Campegno, che era il vicepresidente factotum, come l'attuale Adriano Galliani del Milan, si mise in ginocchio davanti a lui, pregandolo, essendo la figura carismatica del Milan, di non andare all'Inter. E allora De Vecchi ascolta questa implorazione e va al Genoa. Però contemporaneamente passano dal Milan all'Inter i Cevenini, e si porta l'Aldo Cevenini, che era il capitano della nazionale. Ci ha rubato i giocatori, Luigi. Si portano i suoi quattro fratelli, tra cui quello che diventerà Zizi, il Cevenini terzo, famosissimo negli anni 20 e 30, e tutto il resto della famiglia. Si porta via Bontaglini, che era un attaccante, Bavastro, cioè si portano via i pezzi rizzi, passano tutti dal Milan all'Inter. E questo per il Milan fu un colpo, se non mortale, ma molto pesante. Però abbiamo resistito, siamo risorti, abbiamo vinto il doppio di loro su tutto. Però abbiamo pagato poi negli anni 20... Ah, ecco perché. Ci ha rubato i giocatori, per quello che non abbiamo vinto. Assolutamente sì. Ah, vedi quante cose... Perché noi eravamo, diciamo... Quante cose che possono tornarci utili ad ascoltare Luigi Larocca. Perché poi ti spiego, in quegli anni, il presidente del Milan, dal 1909 fino al 1929, era Piero Pirelli, magnate dell'industria milanese, della gomma ovviamente. Lui era una persona mumifica, però vincolata molto al dilettantismo e alla milanesità della squadra. Cioè lui prediligeva, ad esempio, investire negli stadi, infatti fa addirittura tre stadi, uno di seguito all'altro a Milano, tutti per il Milan. Quali sono, Luigi? Quali sono i tre stadi che fa? Allora, nel 19 fa il campo sportivo Pirelli alla Bicocca, dove il Milan, subito dopo il primo conflitto, gioca le prime partite. Nel 21 fa il campo di Viale Lombardia, e poi non contento, che era già uno stadio imponente. Ancora esistenti, Luigi? Allora, il campo di Viale Lombardia, se vai in via Sismondi, troverai il terreno, c'è ancora, sopra ci sono i palloni del tennis club, credo lombardo si chiama, se si chiami, e c'è ancora il, ci sono ancora gli spogliatoi, con lo stemma del Milan, dipinto sopra, e quello è il secondo campo. Le tribune sono state abbattute, ma il campo esiste ancora, quindi con la visione dall'altro, tu lo puoi ancora, esistono ancora le mura di cinta, lo puoi ancora, diciamo, individuare. E poi nel 26 fa San Sonsiro. Perfetto. Giriamo pagina ancora, arriviamo al 25-26, in alto a sinistra, sempre dal libro 25 anni di gloria, di Luca Serafini e Luigi Larocca, ecco, 25-26 in alto a sinistra, poi 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-30. La foto in mezzo, guarda, in mezzo 28-29, quella più sulla destra, c'è questo Milan in maglia bianca che fa il saluto romano. Lo dovevano fare tutti Luigi, nel ventennio? Assolutamente, la cosa venne resa obbligatoria. Perché a Milano, la squadra del Duce, era più l'Inter che, no? Ma questo non lo so, diciamo che, anche qui c'è da fare un inciso. Allora, innanzitutto, la Federazione Italiana Gioco Calcio, nel 28, impose a tutte le società, di salutare romanamente, prima e alla fine di ogni partita. Quindi, in questo caso, siamo nel 28, questo è un Milan Torino, e quindi c'è il saluto romano. e diciamo che, sul discorso che l'Inter fosse prediletta dai, 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 dal regime, su cui ho qualche dubbio. Ah, hai qualche dubbio. Anzi, posso anche dire che, eh, il Milan, per certi versi, venne, eh, favorito, proprio nel, nel 28, quando c'è la fusione, tra, Inter, e, eh, Unione Sportiva Milanese, che dà origine all'Ambrosiana. Ah, ecco. proprio perché, il federale di Milano, che era questo Rino Parenti, aveva delle grandissime simpatie, diciamo, milaniste, e salvò il Milan, dalla possibile fusione, dicendo, che, il Milan, era la prima squadra, nata, calcistica, nata sul territorio milanese, e che quindi, essendosi venute a trovare tre squadre, in serie A, della città di Milano, e ciò era, diciamo, contrastava anche per motivi di ordine pubblico, con, il, le problematiche di trasferto, e via dicendo, impose, la, 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 unificazione, diciamo, coatta, tra Unione Sportiva Milanese, e l'Inter. Qui si inserisce un altro discorso. Quale? Cioè, praticamente, che, l'Inter, che ha festeggiato, nel 2008, i suoi cent'anni, in realtà, non ha cent'anni. Cioè? Perché? Non ha cent'anni. Perché, l'Inter, è stata fondata nell'otto. 1908. Nel 28, sparisce, perché la società, non esiste più. Viene, fondata una nuova società, che è l'Ambrosiana, che nel 32, diventa Ambrosiana Inter, perché inizialmente si chiama solo Ambrosiana, e che muore nel 46, al termine della prima, della seconda guerra mondiale. Nel 46, viene rifondata una nuova società, che si chiama nuovamente Inter, ma non è la stessa società. Quindi, dal 28 al 46, l'Inter non c'è stata? Esatto, non c'è stata. C'è stata l'Ambrosiana. L'Ambrosiana, che è una società completamente diversa. Che era la risultante fra Inter e Milanese. Esatto, perché allora, a questo punto di vista, se volessero, loro potrebbero far risalire, alla loro fondazione, al 1902. Cioè, vale a dire, quando venne fondata, l'Unione Sportiva Milanese. che non esiste più, perché è un po' come la questione della Sandozio. Quindi sono nati nel 46? Assolutamente. Quanti anni hanno, Luigi? Sono una sessantina d'anni. Una sessantina d'anni. Assolutamente. Sono sbarbate. Esatto, sì. Vabbè, avete visto che Luigi Larocca è una miniera, perché poi Luigi Larocca mi fa ribollire lo stomaco, perché poi tutte queste cose, che hanno la storia inimitabile di qui, inimitata di là, c'hanno tanti di quegli scheletri in armadio, da quando sono nati, che non se ne può veramente più. Adesso diamo la linea al canale, e poi continuo a raccontarmi queste cosine, prendendo spunto a tutte le foto del libro I 25 anni di gloria. Fra poco. Grazie.